Carissimi amici miei e di Capoverde, sono appena rientrato dalla missione, un viaggio un pochino stancante ma sono molto contento perché prima di partire abbiamo rieperto la casa Manuela Irger, casa che accoglie cinque ragazze e madri, sorgimento in turno di 7-8 mesi e questo è stato per me una grande consolazione. Grazie poi a Maria Grass, quella che è responsabile oggi di tutta l'attività che abbiamo in Capoverde, lei ha saputo organizzare benissimo la cosa, ha preparato l'ambiente in maniera splendida e 15 fratelli cappuccini studenti in teologia sono passati con noi, hanno pranzato con noi a casa Manuela Irger e questo per me carissimi è stata una grande grande consolazione. Grazie per come ci accompagnate, grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti